Il traietta di Bitonto pronto ad accogliere l'edizione 2023-2024 del cartellone dell'arte dello spettatore che per questa stagione si ampia e coinvolge numerosi artisti da diverse parti del mondo. In programma sette appuntamenti da dicembre a giugno, una domenica al mese con coreografi e danzatori internazionali che portano in Puglia spettacoli in circuitazione, nei festival e nelle programmazioni di danza di tutto il mondo con artisti provenienti da Belgio, Francia, Germania, Giappone, Israele, Italia e Spagna. Gli artisti ospiti dell'arte dello spettatore, oltre a portare in scena i loro spettacoli, sono coinvolti dal direttore artistico del Network Internazionale Danza Puglia, Ezio Scavulli, nel progetto di formazione Network Studens dedicato a giovani allievi danzatori pugliesi dagli 11 ai 25 anni. La rassegna all'arte dello spettatore mette in dialogo il pubblico con coreografi e danzatori internazionali anche attraverso gli incontri a bordo palco che chiudono tutti gli appuntamenti della rassegna, un'occasione per confrontarsi con gli artisti ospiti in maniera informale su metodi di composizione coreografica e per favorire il contatto del pubblico con il lavoro di creazione. Grazie.